Alta allenanti i dati covid nei comuni vesuviani. A Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino, sono quattro i nuovi casi di positività certificati. Si registrano invece cinque nuove guarigioni. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagiati con 103 attualmente positivi, di cui 13 ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata, invece, si sono registrati sette nuovi casi di contagio a fronte di 65 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 10,77%. Al contempo si registrano due guarigioni. Sono 42 dunque i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 51.083. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 23.209, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 27.874.